Finora abbiamo sconfitto Revolver Ocelot, Psicomantis e Sniper Wolf. Adesso vi insegno come sconfiggere Vulcan Raven, un altro membro della Fox Sound. Ma state attenti perché è un gigantesco sciamano. Per eliminarlo dovete usare i missili Stinger e dovete colpirlo da dietro, non davanti, perché se no altrimenti vi uccide la sua potente mitragliatrice. Non dobbiamo farci prendere e mai farci beccare. Bisogna colpirlo solo da dietro. Io non lo sapevo che Vulcan Raven in inglese significa vulcano corvo. Infatti Raven ha tantissimi corvi. Io non lo sapevo che ha tantissimi corvi e poi sopporta il freddo. Ma allora c'è stato un tranello, c'era lui nel carro armato M1. Ragazzone come te non doveva stare molto comodo là dentro. Ecco, ci ora dici avanti esci, ma io gli dico no, non esco. Non sono così scemo da farmi prendere. Se riusciremo a eliminare anche Vulcan Raven e a toglierlo di mezzo, forse faremo la fase finale e distruggeremo per sempre il Metal Gear Rex una volta per tutte. Oh oh, state attenti perché ora non cammina più, corre, corre un pazzo e comincia a sudare. Ehi, forse ce la stiamo facendo. Accidenti che mitragliatrice c'ha Vulcan Raven. Comunque con i missili Stinger stiamo andando bene. E l'abbiamo eliminato. Guardate come l'ho ridotto a brandelli e come l'ho rovinato, guardate. Proprio come aveva detto il capo, la mia esistenza non è più necessaria a questo mondo. Beh, ora i corvi lo uccidono e lo sbranano. Ma il mio corpo non rimarrà qui. E gli spiriti e le mie carni diventeranno tutti nuovi corvi. Sei scibo per corvi. Dopo tornerò alla madre bello che mi ha generato.